Il mio acquisto vicino è lo slogan che abbiamo pensato, lanciato e che vogliamo sostenere. Crediamo che sia importante in questo momento dare la nostra testimonianza per sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato, dalle realtà che animano tutti i giorni le nostre strade, le nostre città. Acquistare i regali da mettere sotto l'albero nei negozi di vicinato e non sui siti dei grandi player a lanciare questa iniziativa di Natale sono stati i dipendenti di confesercenti, un gesto che vuole essere anche un simbolo di vicinanza ad uno dei settori che maggiormente sta subendo le conseguenze di questa pandemia. Nasce dal cuore. Noi siamo dipendenti di confesercenti che vivono la realtà degli esercenti quotidiana e ovviamente in questo periodo, non solo in questo periodo, ma in questo periodo è sicuramente molto più accentuata, abbiamo deciso di dare uno slogan e di impegnarci nell'andare ad acquistare i regali di Natale o i beni di necessità nei negozi di vicinato presenti nei nostri piazze, nelle nostre città, nei nostri paesi, perché vanno aiutati e vanno sostenuti. Noi non acquisteremo su player importanti che hanno ad oggi una concorrenza sleale con gli esercenti. L'auspicio dell'associazione adesso è quello che questo gesto sia un esempio per tante famiglie retine in modo da poter sostenere i commercianti che stanno affrontando con molte difficoltà l'emergenza Covid. È un momento veramente difficile perché viene da un periodo di chiusura prolungato che già avevano vissuto nei mesi precedenti, quindi già era difficile la situazione economica, ora ancora di più e l'incertezza continua di quando si potrà tornare ad una situazione di normalità o perlomeno simile alla normalità, aggrava ancora di più la situazione. I negozi per il momento resteranno chiusi, la riapertura potrebbe slittare? Dopo questo fine settimana c'è tanta amarezza da parte vostra? Sì, dovrebbe essere domenica, potrebbero aprire domenica, almeno così si legge. Siamo indignati per questo provvedimento perché è un atto di ordinaria burocrazia, non cambiava nulla aprire il sabato piuttosto che la domenica e quindi è incomprensibile, è un segno di disattenzione nei confronti di un settore in difficoltà.